Dopo la sconfitta subita dal Pescara a Vicenza abbiamo sentito tre dichiarazioni forti. La prima quella del capitano Guana che ci ha detto non abbiamo la mentalità di una squadra vincente. Il giorno successivo è uscito lo scoperto anche il presidente del Pescara, non voglio vedere più il catenaccio e l'ultima dichiarazione è quella del portiere Aresti che sostiene non dobbiamo avere paura. Dichiarazioni che dovrebbero far riflettere il tecnico Baroni, tutti sostengono che questa squadra deve scendere in campo con più coraggio. Non c'è stato un segnale da parte dell'allenatore bianco-azzurro in tal senso. Certo la partita con il Carpion, poi il crocevia di questo campionato sarà la decima prova dei bianco-azzurri che devono cancellare questa parabola discendente che c'è stata nelle ultime partite. Nonostante le vittorie conquistate con Lentella e a Crotone. Baroni cambierà qualcosa, certo non chiediamo la mentalità e il gioco dei vari sacchi che ha Leone e Zeman ma almeno uno spiraglio di gioco, un po' di coraggio in più che permetta a questa squadra non solo di conquistare risultati utili ma di cominciare anche a far divertire il pubblico dell'Adriatico. In questo momento sono più pesanti i punti ma il calcio ci ha insegnato che le vittorie e i risultati positivi arrivano sempre tramite il bel gioco. D'altronde abbiamo anche l'esperienza delle nostre squadre italiane in Champions con Roma e Juventus che non hanno dimostrato di avere coraggio. Forse per la Roma il discorso è diverso ma lì si è trattato probabilmente di presunzione. quel coraggio che è mancato allo Juventus e che vorremmo vedere invece nel pescare di Baroni a partire dalla partita di sabato con il Carpi.